Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. C'è un piccolo mistero, un piccolo giallo se vogliamo chiamarlo così, che forse non merita neanche attenzione, tuttavia noi gliela attribuiamo a un passano. Il giallo ha per protagonista Bergoglio, che secondo alcuni è il Papa, ma che come abbiamo provato a mostrare nel nostro libro La fine del cristianesimo Papa non è. Ebbene, avete visto che nei giorni scorsi non ha partecipato alla Via Crucis perché faceva troppo freddo. Bergoglio è stato male nei giorni precedenti, era stato da poco dimesso e quindi per via del freddo insolito in questa stagione, o almeno non così solito in questa stagione, ha preferito non partecipare alla Via Crucis. E quindi ancora una volta, dato che sono più anni è stato rilevato da Taluni, che non prende parte a questo evento, non ha partecipato. La cosa curiosa che hanno notato Taluni è che tuttavia l'indomani, nel giorno di Pasqua, è comparso a bordo della Papa Mobile, come viene chiamata la macchina del Papa, con il suo vestito bianco, senza nemmeno un cappotto, una giacca, un giaccone, qualcosa che lo proteggesse dal freddo. E' vero che il giorno di Pasqua a Roma il tempo era ottimo e dai video si vedono le persone senza giacca, tutto vero, tuttavia se Bergoglio è stato da poco dimesso, se il giorno prima non ha potuto prendere parte alla Via Crucis per il troppo freddo, desta un qualche stupore vederlo così vestito leggero, come usa dire, dopo che era stato dimesso da poco e non aveva partecipato alla Via Crucis per il freddo eccessivo. Ecco, colpisce questo dettaglio, almeno ha colpito Taluni e in effetti desta un certo stupore, non voglio dire che sia un vero e proprio giallo, ma sicuramente desta qualche stupore. Il giorno prima per il freddo non partecipa alla Via Crucis, il giorno dopo, è vero c'è il sole, ma compare vestito di bianco molto leggero sulla Papa Mobile, ma un piccolo enigma che in effetti non è sfuggito a molti.